Trioni Bianco Badagoni Trioni Bianco Badagoni è fatto con uve selezionate di Kakurims Vane, uno dei tanti vitini autoctoni della Georgia nella regione di Cacchetti. Ha un colore giallo paglierino, un bouquet molto fine e ha un finale armonioso. Si accompagna bene con pesce e pollato. L'azienda fu fondata nel 2002 in Georgia nella principale zona vitivinicola Cacchetti. Grazie a ingenti investimenti e alla collaborazione del famoso enologo donato Lanati, che cura l'aspetto qualitativo del vino, oggi la Badagoni è una delle più grandi e importanti aziende vinicole non solo della Georgia ma di tutta la regione del Caucaso. I suoi vini sono stati premiati in concorsi nazionali e internazionali.